buonasera lo so che in questi casi ci si sente in obbligo di dire vorrei tanto esserci mi dispiace non esserci ma è proprio vero non è una scusa formale è anzi un vero dispiacere mi piacerebbe molto essere lì e se non ci sono è proprio per degli incastri furibondi a cui non mi sono potuta sottrarre penso che sia meraviglioso che questo festival abbia non solo preso il nome ma che con queste onde di memoria e di consapevolezza e di assunzione di responsabilità porti avanti il ricordo di giulio la battaglia di giulio la battaglia della sua famiglia è una battaglia che è diventata credo comune a tanti di noi perché c'è qualcosa di insopportabile di intollerabile di scandaloso in un lutto di un dolore così grande che un dolore privato che un dolore umano e in una ferita così enorme inferta alla democrazia alla giustizia e anche come dire impudica nella sua spudoratezza no quindi non è semplicemente un fatto formale è che questa battaglia ci appartiene e questa richiesta di giustizia ci appartiene a tutti e sarà una serata bellissima perché quando si tratta di giulio sono sempre serate bellissime